L'occasione è stata quella della visita istituzionale del presidente Toma Isernia. Il governatore ha incontrato giunta e consiglio a Palazzo San Francesco, ma quello che ha più incuriosito i cronisti è stato il contenuto dell'intervento del sindaco D'Apollonio all'atere dell'incontro. D'Apollonio ha dichiarato che presto potrebbe rimodulare l'assetto della sua giunta. Una sorta di tagliando di metà legislatura per andare a ritoccare la distribuzione di alcune deleghe tra gli assessori. Una notizia che arriva a pochi giorni di distanza dal passaggio di Tonino Antenucci dalla maggioranza all'opposizione e più precisamente dal gruppo Isernia in Comune, lista direttamente collegata da Pollonio alle scorse comunali, di cui Antenucci era anche capogruppo, al gruppo Isernia Migliore, creato dall'assessore regionale Roberto Di Baggio. Scelta che ha portato i consiglieri di Isernia in Comune a riunirsi dopo la fuoriuscita del capogruppo per fare il punto della situazione e cercare di analizzare le cause che hanno portato a perdere Tonino Antenucci. Fuoriuscita che, come aveva detto D'Apollonio durante il Consiglio Comunale, era giunta totalmente inaspettata per il resto della compagine e per lo stesso primo cittadino. Sempre nel corso della stessa assise civica, il consigliere di minoranza, Giovan Cammini Mancini, aveva invocato l'azzeramento della giunta, azzeramento che, come affermato da D'Apollonio, non ci sarà. Ma il primo cittadino ha confermato di stare valutando da tempo la possibilità di procedere a un assestamento dell'esecutivo, non senza però fare le prime dovute considerazioni circa le reali necessità della sua amministrazione. L'ipotesi di riorganizzazione a cui guarda D'Apollonio consiste nell'aggiunta oppure nella sostituzione di alcune deleghe per gli assessori, ma più di qualcuno pensa anche che potrebbe saltare qualche poltrona. Del resto la venuta di Toma e Isernia conferma il collegamento strettissimo tra il sindaco e il governatore e a Campobasso Forza Italia, Isernia Migliore, Lega e Sovranisti sono in maggioranza, mentre al comune di Isernia è in minoranza. Che succederà? D'Apollonio rimodulerà maggioranze giunta allineandosi alla regione? Non lo sa ancora nessuno, ma qualche campanello ha cominciato a suonare.